Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'amministrazione comunale di Alba Adriatica vuole superare lo scontro politico con la regione Abruzzo e guardare avanti alla soluzione del problema erosivo della spiaggia nord di Alba Adriatica per salvare la stagione turistica. Il vice sindaco Simone Pulcini chiede un tavolo di concertazione con il sottosegretario della regione con delega all'infrastruttore Umberto Rannunzis per tracciare le linee di azione che porteranno agli interventi di tutela della costa e dell'economia balneare. Innanzitutto c'è da precisare che l'amministrazione comunale non è stata invitata in regione ma ha partecipato in virtù di un sollecito da parte di una parte dei balneatori albenzi quando invece forse il tema sarebbe il caso finalmente di trattarlo tutto insieme, tutta la categoria turistica e la regione prende consapevolezza del fatto che l'amministrazione vuole, chiede, pretende un collegamento forte con il sottosegretario e con la giunta regionale affinché si risolva il problema definitivamente. Problema che al momento non è assolutamente risolto, siamo ancora nell'ambito delle promesse che il sottosegretario correttamente cerca di avanzare nei confronti riassicurando la comunità albense ma di fatto ad oggi non è stato ancora stanziato nulla per quanto riguarda le opere strutturali che c'è la prospettiva che possano essere finanziate nei prossimi due mesi a detta del sottosegretario, questo elemento ci rassicura o quantomeno ci propone un auspicio positivo per il futuro ma di fatto al momento ancora nulla, è concretizzato. Puoi ritenete che quale sia la soluzione da adottare debba essere corale quindi è necessario che amministrazione, regioni, operatori vengano coinvolti in un ottavolo solo e insomma si faccia una voce unica? Sì, premesso che le soluzioni tecniche sono di competenza degli organi regionali e politicamente di responsabilità della giunta regionale che in questo momento cerca di spendersi per la soluzione e chiaramente le soluzioni vanno concertate con tutta la categoria turistica, con tutto il parco dei balneatori e non solo e quindi ricomprendendo tutti gli attori principali del nostro turismo locale affinché appunto possa finalmente concertarsi univocamente una soluzione definitiva per la città.